Buongiorno a Tolantino, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Bergamo Nero Blu sul preview di Atalanta Udinese partita che come sapete si giocherà domenica alle ore 15 all'Ostero di Bergamo ultima partita casalinga di questa stagione proprio contro l'Udinese dell'ex Stefano Colantonio che purtroppo non ci sarà partita che secondo me per noi conta e non conta anche perché siamo salvi ormai da due o tre partite possiamo giocare bene tanto ormai la salvezza è già acquisita invece per l'Udinese questo no anche perché sono se sbaglio a 38 punti e sono insediati sia da Carpi che da Palermo hanno provato a cambiare allenatore da Colantuono a De Cagno i risultati si sono visti inizialmente con dei vari pareggi e con la bella vittoria con Napoli per 3 a 1 dopodiché anche da quel momento lì la squadra si è un po' smarreta anche perché di Natale purtroppo si è in forma ma non come gli altri anni e quindi sono ancora dentro nella bagarre zona retrocessione quindi per loro è secondo me di vitale importanza venire a Bergamo e sicuramente non perdere soprattutto per questo motivo qui quindi zona salvezza per noi invece come ho detto prima secondo me dobbiamo cercare di fare un buon gioco come abbiamo fatto in molte se non tutte le partite di questa stagione sappiamo già che ci saranno se non sbaglio due coreografie una per Yara che doveva farsi 15 giorni fa però purtroppo per delle vicende con il questore come sapete tutti non è stata fatta e poi per Giampaolo Bellini che è il nostro capitano che è l'ultima partita appunto a Bergamo di Bellini e anche se è vero che negli ultimi 3 o 4 anni il suo rendimento non è stato elevato vuoi anche per infortuni spessi e vuoi anche perché non ha trovato spazio penso comunque sui 18 anni che ha trascorso all'Atalanta penso che 15 li abbia giocati realmente bene quindi un complimenti a Bellini per tutto quello che ha fatto a noi e penso purtroppo che non ci sarà un'altra persona come lui un'altra persona che rifiuterà offerte magari da Roma, da Juve, da Fiorentina per restare a Bergamo quindi un grazie a tutto di Bellini ma questa qui parleremo in un altro video niente che dire si sa già che molto probabilmente ci sarà quasi tutto esaurito magari esaurito no ma per me di 17.000 persone ci saranno sperando che sia una giornata di festa magari congruendosi con una bella vittoria un Forza Atalanta sempre comunque alla prossima